Hai ritirato i soldi? Sei stato pagato, giusto? Perché lo dici come se fosse così ovvio? In questi cinque anni, anche quando ti ho dato dei soldi, non mi hai mai ringraziato una volta. Se lavori a tempo pieno e vivi a casa, è naturale che tu contribuisca con dei soldi. Dovresti essere grata di essere cresciuta fino a questo punto. Capisco cosa vuoi dire, mamma. Cosa c'è che non va? Oggi sei insolitamente polemica. Qual è il problema? C'è qualcosa che non va? Si comporta in modo strano, dice che non si ringrazia nemmeno quando si danno i soldi. L'hai detto davvero, devi andare all'università perché ti abbiamo cresciuto noi. Non credi che contribuire con del denaro sia un modo per ripagare questo impegno? È il tuo dovere di figlia maggiore.Capisco che devo contribuire con dei soldi visto che vivo a casa, ma non sto forse mantenendo tutti e tre voi che non lavorate. Non è giusto. Io lavoro, ma non come dipendente a tempo pieno come voi. Stai dicendo che il lavoro part-time non conta come lavoro. Quindi vuoi usare tutti i soldi che guadagni per te stesso senza ripagare i tuoi genitori? Cosa pensi di noi? Se non vuoi contribuire con i soldi, non puoi vivere qui. Vattene subito. Beh, sarà difficile per una persona che sa solo lavorare come te e vivere da sola, dice AA. Negli ultimi cinque anni ho dato soldi alla mia famiglia ogni mese. Mi sembrava naturale rinunciare ai miei guadagni per mantenere la mia famiglia. Ho subito talmente tante pressioni che non ho mai messo in discussione la cosa. Ma ora sono diverso. Finalmente ho capito che la situazione in cui mi trovavo non era giusta. Grazie. Lascerò la casa. Se me ne vado, perderanno il sostegno che davano per scontato e sicuramente se ne pentiranno. Come previsto, passò un mese e finalmente squillò il telefono. Mi chiamo Bridget. Non sono ancora sposata e non ho mai lasciato la casa dei miei genitori. Anche se lavoro, vivere a casa fa spesso pensare che io dipenda dai miei genitori. La realtà, però, è ben diversa. Ci sono dei motivi per cui ho vissuto a casa fino ad ora. Torniamo un po' indietro nel tempo e partiamo dalla mia infanzia. Avevo sette anni quando è nata mia sorella. È davvero una bambina carina. È tua sorella, Bridget. Vai d'accordo con lei. La proteggerò perché sono la sorella maggiore. Ricordo perfettamente come mio padre, Douglas, e mia madre, Cheryl, si rallegrarono per la nascita del loro secondo figlio. A quei tempi, spesso prendeva in giro mia sorella Mary e veniva rimproverato da mia madre. Probabilmente non poteva fare a meno di adorarla. Anch'io non vedevo l'ora di giocare con Mary. Ma non sono mai riuscito a farmi piacere Mary. Mamma, sai dov'è la mia borsa da ginnastica? Non è appesa? Dovresti prepararla tu stessa. Di solito appendo sempre la borsa della palestra al gancio della mensola del soggiorno. Dato che non c'era, ho chiesto a mia madre. Nonostante questo, mia madre sembra completamente indifferente nei miei confronti. Rispondendo sempre con freddezza. Di solito finisco per trovarla nel cassetto, dove spesso si confonde con altri vestiti quando mia madre ha fretta o non se ne accorge. Ogni volta devo cercare a fondo in tutti i cassetti della casa. Quando finalmente ho trovato la borsa, purtroppo mia madre è arrivata sul posto. Cosa stai facendo? I cassetti sono in disordine. Mi dispiace. Tu hai bisogno di più cure di Mary. Anche come studente delle elementari. Non potevo accettare questa situazione. Ma anche se in cuor mio credevo di non avere colpe. Nel momento in cui venivo sgridata a voce alta dai miei genitori, mi convincevo inconsciamente che la colpa era mia. Come nella psicologia di un bambino piccolo.Da quando è nata mia sorella, mia madre ha iniziato ad arrabbiarsi spesso con me. Da quel momento, gradualmente, non riuscii più a dire nulla a mia madre. Inoltre, ho iniziato a provare la stessa paura nei confronti di mio padre.Che cosa hai comprato? Un giocattolo per Mary. Ho pensato che a Mary sarebbe piaciuto. Anch'io voglio un giocattolo. Te ne comprerò uno la prossima volta. Ma è da un po' che lo dici. È sempre Mary. Non è giusto. Cosa non è giusto? Lo compro perché lo voglio. Se continui a dire compralo, mi fai passare la voglia di comprarlo. Nel momento in cui le urla di mio padre riecheggiarono. Mia sorella iniziò a piangere e lui si affrettò a prenderla in braccio per farla smettere di piangere. La mia presenza, con il volto in procinto di piangere, fu completamente ignorata. Nessuno si curava di me.I rimproveri della madre erano dolorosi, ma l'intimidazione opprimente e la voce urlante del padre erano per me molto difficili da sopportare. Ero sempre tesa e spaventata di fronte a mio padre. La mamma non mi ha mai difeso.I, mamma, ti rimproverano perché sei gelosa di Maria e implori per i giocattoli, soprattutto perché sei la sorella maggiore e non capisci. Invece, vieni qui e aiutami.Mia madre mi passò una spugna insaponata per aiutarmi a pulire la cena. Impugnando la spugna schiomosa passatami da mia madre, lavai i piatti uno dopo l'altro, come se facesse parte della mia routine.Grazie per esserti occupato delle pulizie. Mia madre lasciò il posto e andò a prendersi cura di mia sorella.Mentre sentivo la presenza dei miei genitori che si divertivano e si prendevano cura di mia sorella dietro di me. Non avevo altra scelta che continuare in silenzio a lavare i piatti da sola.Quando nasce il secondo figlio, è inevitabile che il tempo trascorso con il primo diminuisca. Di conseguenza, è comune sentire la solitudine e l'isolamento.Anche se il figlio maggiore è ancora piccolo, spesso ci si aspetta che aiuti nelle faccende domestiche e nella cura dei bambini come parte del suo ruolo.Naturalmente, fare il genitore è più difficile di quanto si possa immaginare. Soprattutto quando ai genitori manca il tempo o la capacità emotiva. Può diventare difficile dare abbastanza attenzione e amore ai bambini.Tuttavia, con il passare del tempo e la crescita dei figli, spesso questi problemi si risolvono naturalmente da soli.Ho cercato di convincermi che il trattamento diverso che ricevevo era dovuto al fatto che mia sorella era ancora giovane.Ma la realtà era completamente diversa da quella che avevo previsto.Anzi, la situazione è peggiorata e la differenza di trattamento tra me e mia sorella da parte dei miei genitori è diventata ancora più marcata.Ho una richiesta da farti.Papà.Che cos'è? Dimmi, puoi comprarmi i vestiti elencati qui?Quanto costano?Spero che non siano costosi.Per favore, voglio davvero questo.Va bene.Ne parlerò con tua madre.Ti voglio bene.Papà.Mia sorella prese la rivista, facendola roteare come un giocattolo e ridendo felice.Io ricevevo regali dai miei genitori solo in giorni speciali, come i compleanni o il Natale.Ma per mia sorella era diverso.Se diceva di volere qualcosa,anche se si trattava di oggetti banali, i nostri genitori glielo compravano subito.Vedendo come mia sorella riusciva sempre a ottenere qualcosa, mi sono fatta coraggio e ho provato a chiedere anch'io.Tuttavia.La risposta era sorprendentemente sprezzante e con un semplice B si risolveva la questione e io perdevo l'energia per insistere ulteriormente.Man mano che mia sorella cresceva, i miei genitori facevano sempre più spesso quello che lei chiedeva, e il divario nel modo in cui ci trattavano aumentava.A questo proposito, che dire del bucato?Volendo essere una brava bambina, andavo a stendere il bucato senza ribattere a mia madre.Con il passare dei giorni.Cominciai gradualmente a valutare l'umore dei miei genitori.Mi sentivo costantemente preoccupato di come mi vedevano e non riuscivo a rilassarmi veramente nemmeno quando ero a casa.Sentendomi a disagio in casa e volendo cambiare ambiente di vita in questo momento.Andando all'università, ho deciso di parlarne apertamente con i miei genitori.Sento pensando di andare a vivere per conto mio quando sarò all'università.Gestirò l'affitto e le spese di vita lavorando part time.Va bene così?Vivere da sola?Vuoi dire trasferirti?Cosa ti ha preso all'improvviso?Vivere da sola è pericoloso.È vero.Papà sarebbe triste se tu te ne andassi, Bridget.Siamo preoccupati per te.Anche se non approvavano il fatto che vivessi da sola.Non ho opposto resistenza e ho rinunciato all'idea.All'inizio mi sembrava che i miei genitori fossero particolarmente interessati solo a mia sorella.Ma le loro parole sembravano indicare che i miei sentimenti erano solo un malinteso unilaterale.I miei genitori sembravano tenere a me come figlia. E mio padre in particolare sembrava rattristato dal pensiero della mia partenza.Vedendo la loro reazione, la nube nella mia mente si è dissolta e mi sono sentita sollevata.Forse sorpresa dal mio desiderio di vivere da sola.Notai un netto cambiamento nell'atteggiamento dei miei genitori.Mia madre smise di impormi i lavori domestici e mio padre cominciò a mostrarsi preoccupato per me.Mi sentivo sollevata perché non dovevo più preoccuparmi dell'umore dei miei genitori.Ma quando iniziò la vita universitaria fui accolta da una routine non diversa da quella di prima.Cosa c'è per colazione oggi?Sono stata sveglia tutta la notte e non l'ho ancora fatta.Non l'hai ancora fatta?Che ora pensi che sia?Non trascurare le faccende domestiche solo perché vai all'università.Devi lavorare per la tua retta.Buongiorno.Ci sei già pronta la colazione.La preparerò in fretta.Quindi ti prego di aspettare ancora un po'.Affrettata com'ero, presi il toast caldo dal tostapane senza perdere un secondo e lo misi sul piatto.Per quanto fossi impegnata, nessuno mi avrebbe aiutato.Finché non portavo la colazione in tavola.Continuavano a stare seduti sul divano a guardare la tv senza muoversi più di tanto.Le mie faccende non si fermavano alla preparazione della colazione.Ero responsabile di molte altre faccende domestiche.La preparazione della cena,le pulizie e il bucato.In pratica mi occupavo di tutte le faccende domestiche.Prima credevo che i miei genitori si preoccupassero di me e che per questo mi avessero chiamato a vivere da sola.Ma mi sono resa conto che si trattava di un malinteso.Con l'avvicinarsi del diploma, decisi ancora una volta di lasciare questa casa.Papà, mamma, voglio che mi ascoltiate.Dopo la laurea, andrò a vivere da sola.Vuoi vivere da solo così tanto?Perché non rimani qui finché non ti sposi?È vero.Dopo tutti i problemi che abbiamo passato per mandarti all'università, vuoi lasciarci appena ti laurei?Non calpestare i nostri sentimenti.Hai intenzione di abbandonarci quando non saremo più utili.Sentivo che i miei genitori non mi avrebbero permesso di vivere da sola perché avrebbero dovuto sbrigare le faccende domestiche e le pulizie senza di me.Ma questa volta ero decisa a,non cedere alla loro opposizione e ad attenermi alla mia volontà,a prescindere da tutto.Tuttavia,entrambi i miei genitori piangevano e mi imploravano di non andarmene.Dicendo che era crudele abbandonarli.Di fronte a un lato dei miei genitori che non avevo mai visto prima.Mi sono commossa e ho dovuto rinunciare ancora una volta all'idea di vivere da sola.Questo incidente è stato davvero un momento che avrebbe potuto cambiare il mio destino.Poiché non sono andata avanti a vivere da sola.La mia vita in seguito è diventata molto più difficile.Dopo la laurea,ho trovato lavoro come venditore in una compagnia di assicurazioni.Lavoravo dalla mattina presto fino a tarda sera.Costantemente impegnato in attività quotidiane.Nonostante questo,la situazione in cui sono quasi l'unica responsabile delle faccende domestiche non è cambiata.Inoltre.Ora che ho un reddito da adulto lavoratore,i miei genitori e mia sorella Mary hanno iniziato a chiedermi tutto quello che vogliono.È quasi il tuo primo giorno di paga.Cosa dobbiamo farti comprare?Di cosa stai parlando?Ho messo gli occhi su un negozio.Anch'io voglio qualcosa,sorellona.Si tenne una discussione in famiglia per decidere cosa comprare con il mio primo stipendio.Tuttavia, sembrava che la mia presenza fosse completamente ignorata.Guardando i tre che parlavano felici,mi sentivo così distaccata come se non fossi davvero li.La stessa cosa continuava ogni volta che ricevevo lo stipendio.Se fossero state solo loro a venire da me con le loro richieste carine,avrei potuto accettarle.Ma dopo tre mesi hanno iniziato a dire che era fastidioso dirmi cosa volevano e hanno semplicemente preteso i soldi.Anche se sono una famiglia?Dovrei essere in grado di rifiutare quando chiedono soldi.Tuttavia, forse a causa del trauma della mia infanzia o del mio desiderio di essere una brava bambina? Mi sono trovata incapace di dire qualcosa ai miei genitori e ho finito per dare loro i soldi con...riluttanza.Datene un po' anche a me.Anche mia sorella Mary era una persona a cui non potevo rispondere.In questa casa?Sembra che i miei genitori e mia sorella siano al di sopra e che io sia l'unico al di sotto.Mi sono persino trovata nell'impossibilità di rifiutare denaro a mia sorella, che frequenta ancora la scuola media.Per i primi mesi le somme che chiedevano erano piccole, quindi pensavo che un po' di soldi non avrebbero fatto male.Tuttavia, quando gli importi sono aumentati gradualmente, ho iniziato a nutrire dei dubbi.Ho portato la quota di questo mese.Grazie per il duro lavoro di questo mese.Quando ho consegnato la busta, mia madre l'ha ricevuta con la stessa disinvoltura con cui avrebbe preso un telecomando.Come nuovo dipendente, il mio reddito era di circa 2500$.Nel giro di un anno.Mi ritrovai a dare la maggior parte del mio stipendio alla mia famiglia.Avevo solo circa 200$ per me ogni mese.Gestire con 200$ è stato più difficile del previsto.Non potevo permettermi di uscire a mangiare con gli amici o di andare dal parrucchiere.Le mie giornate facevano la spola tra casa e lavoro e dovevo rimanere a casa anche nei fine settimana.A lavoro, visto che non crescevo bene, cominciarono a circolare voci infondate che insinuavano che avessi difficoltà economiche o che fossi stata ingannata da un uomo.Non potendo parlare della verità, non avevo altra scelta che ignorare i pettegolezzi al lavoro.Questa situazione si è protratta fino a quando, prima che me ne rendessi conto, sono passati 5 anni e ho compiuto 28 anni.Non è che abbia semplicemente trascorso questi 5 anni senza dire nulla.Sebbene non abbia ottenuto risultati tali da cambiare drasticamente la mia situazione.Ho sicuramente fatto dei piccoli sforzi.Posso ridurre un po' i soldi che do a tutti?Va bene così?Non è possibile che vada bene.Di che cosa stai parlando?Il volto arrabbiato di mio padre era proprio davanti a me.Potevo sentire l'intensità come se stesse per attaccarmi.Mi dispiace.Mentre mio padre si allontanava da me, mi resi conto che avevo inconsciamente trattenuto il respiro e finalmente espirai profondamente.Sentendomi sollevata.Ogni volta che esito a consegnare il mio stipendio, i miei genitori usano vari metodi per farmi pressione.Dopo 5 anni di lavoro, il mio stipendio mensile ha raggiunto circa 3000$.Tra i miei coetanei, questa cifra è abbastanza buona.Ed è anche perché ho lavorato molto duramente.Tuttavia, il motivo di questo impegno non è necessariamente lodevole.Il suo stipendio non è aumentato per niente, non dovrebbe aumentare in base alle prestazioni e alle vendite.Non ti stai impegnando abbastanza? Sto facendo del mio meglio.Smetti di trovare scuse e lavora di più.Ho lavorato ancora più duramente di prima e di conseguenza il mio stipendio è aumentato.Tuttavia, poiché devo dare tutta la parte di stipendio aumentata alla mia famiglia.Mi rimangono solo 200$ per me.Le ragioni sbagliate dei miei sforzi hanno portato a diversi cambiamenti intorno a me.I miei genitori sono andati in pensione due anni fa e sono passati a un lavoro part time.Nonostante il part time, non sembrano lavorare disperatamente.Nonostante il mio duro lavoro, i miei genitori spesso passano le giornate a rilassarsi a casa.3.000$ al mese è la cifra tipica con cui una famiglia di 4 persone può vivere.E il mio stipendio è appena sufficiente a sostenere lo stile di vita di tutta la mia famiglia.I miei genitori, che non devono preoccuparsi delle spese di sostentamento, usano liberamente i soldi guadagnati con i lavori part time.Sono a casa.Oh, bentornato.Quando sono tornata a casa, ho visto i miei genitori che stavano gustando dei dolci in salotto.All'esterno, lo stile di vita dei miei genitori potrebbe non sembrare molto diverso da quello di altre famiglie.Tuttavia, vivendo io stessa con 200$, il loro modo di gustare i dolci mi sembra incredibilmente lussuoso.Che cos'è?È bodino.Ce n'è un po' anche per te nel frigorifero.Avvertendo il mio ritorno, mia sorella uscì dalla sua stanza per cenare.Mentre iniziavo a preparare la cena, mia sorella prese il budino dal frigorifero e iniziò a mangiarlo.Quando ho aperto il frigorifero per prendere gli ingredienti.Ho scoperto che il budino che aspettavo con ansia era sparito.Mia sorella mangia volentieri il budino con i nostri genitori.Ma ha 21 anni e anche lei una lavoratrice part time come loro.Anche dopo il diploma di scuola superiore, non ha proseguito gli studi né ha trovato un lavoro a tempo pieno.Continuando a vivere grazie al sostegno.Dei miei genitori.Tuttavia.Poiché i miei genitori dipendono dal mio reddito. Alla fine anche mia sorella dipende dal mio reddito attraverso i miei genitori.Altri potrebbero trovare la situazione bizzarra e sentirsi in conflitto.Tuttavia, essendo cresciuta osservando e adattandomi sempre agli umori della mia famiglia.Non sapevo più come sfuggire a questa situazione.Vivevo ogni giorno con una sensazione di rassegnazione.Come se dovessi passare tutta la vita per la mia famiglia.Nel bel mezzo di questa situazione,improvvisamente si è verificata una svolta nella mia vita.Nell'ambito di uno sforzo per rendere il posto di lavoro più confortevole per i dipendenti.L'azienda decise di nominare un consulente.Tuttavia.Ogni volta che si introduce qualcosa per la prima volta, tutti tendono a essere cauti.Pertanto, l'azienda ha deciso di selezionare una persona per ogni reparto da sottoporre a consulenza.La scelta è stata fatta su base volontaria.Ma nessuno si è offerto volontario.Nessuno vuole ridurre il proprio tempo di lavoro per partecipare alla consulenza.Questi compiti indesiderati finiscono sempre per essere una.Mia responsabilità.A causa del mio aspetto semplice e della mia incapacità di resistere, non importa quanto sia problematico il ruolo, vengo inevitabilmente preso di mira.Lo farò.Sospirando dentro di me, ho alzato lentamente la mano per indicare che avrei partecipato alla consulenza.In seguito, in un angolo dell'ufficio, fui messo a parlare con il consulente.C'è qualcosa per cui stai lottando?Questo è il motivo per cui ho finito per vedere il consulente.Non ho il coraggio di parlare di queste cose.Niente di particolare.Mi è stato chiesto del mio attuale lavoro e delle mie relazioni, e ho pensato di rispondere in modo vago e di chiudere la conversazione.Inaspettatamente, quando mi è stato chiesto della mia famiglia, ho esitato un po' presa alla sprovvista.Ho incespicato sulle parole, incapace di trovare la cosa giusta da dire.Mi aspettavo domande sul lavoro.Quindi sentirmi chiedere della mia famiglia è stato inaspettato.Poiché le persone sono generalmente caute sulle questioni private, è normale non approfondire troppo questi argomenti.Nonostante ciò, mi ha sorpreso che il consulente abbia sollevato l'argomento della mia famiglia.Dovevo ammettere che erano veramente professionali.Forse, ascoltandomi, il consulente ha intuito che il problema risiedeva più nel mio ambiente domestico che nel mio posto di lavoro.Pensando che fosse inutile nasconderlo, decisi di parlare del rapporto con i miei genitori e mia sorella e della mia situazione attuale.Mentre parlavo, l'espressione del consulente divenne gradualmente più seria.Quando finì di parlare.Il consulente fece un respiro profondo e iniziò a parlare lentamente.Si tratta essenzialmente di violenza domestica, non è vero?È considerata violenza domestica?Da quello che mi ha detto, sembra una violenza finanziaria.Soprattutto il rapporto con i suoi genitori sembra essere problematico.Non potei fare a meno di alzare la voce per la sorpresa delle parole inaspettate del consulente.Esistono vari tipi di dv, e di solito si pensa alla violenza fisica.Tuttavia, ho imparato che ci sono anche forme di dv che colpiscono la mente, come l'abuso psicologico e le molestie di potere, e la dv finanziaria, che sto vivendo attualmente.Secondo il consulente, sembra esserci un problema particolare su come e perché ho finito per dare soldi ai miei genitori.Le intimidazioni ricevute dai miei genitori e la situazione in cui dovevo osservare i loro stati d'animo si sono radicate.Profondamente, influenzando le mie azioni in modo inconsapevole.A volte si scusavano per farmi sentire in colpa o mi trattavano con gentilezza per illudermi di essere necessaria.Rendendomi difficile separarmi dalla mia famiglia.Questo è un metodo tipico della dv e sembra che la mia famiglia mi stia dominando mentalmente.Rendendomi difficile staccarmi.Mi sembra di essere in difficoltà dal punto di vista economico, ma a volte penso che possa essere un'esagerazione.Penso che lei sia diventato incapace di vedere la sua situazione in modo obiettivo.Dopo questa risposta, il consulente iniziò a scrivere qualcosa su un foglio di carta.Mi sentii un po' a disagio al suono della penna.Cosa posso fare per cambiare la situazione?Invece di cercare di cambiare immediatamente la situazione, inizia a dare più valore ai tuoi sentimenti che a quelli della tua famiglia.Mentre ascoltavo il consulente.Ero profondamente pensieroso.Non avevo mai pensato di dare valore ai miei sentimenti prima di allora.Anche dopo la fine della seduta di consulenza le mie emozioni rimasero complicate.Mentre tornavo a casa, il mio cuore era ancora annebbiato.Sul treno vidi il mio riflesso nel finestrino.I miei capelli erano spettinati,i miei vestiti stropicciati e il mio viso mal truccato aveva un aspetto terribile.Delusa dal mio aspetto.Ho sentito il desiderio di prendermi più cura di me stessa .Nella mia situazione attuale.Non ho sicuramente abbastanza soldi per mantenere un aspetto adeguato.Lavoro, quindi perché dovrei avere solo 200 dollari da spendere?Ho iniziato a chiedermi, perché devo mantenere la mia famiglia?L'ondeggiare del treno sembrava aiutare a riordinare il caos dei miei pensieri e sentimenti.Per schiarirmi le idee, decisi di raccogliere un po' di coraggio. Hai ritirato i soldi?Hai ricevuto lo stipendio, vero?Quando arrivai a casa, prima di salutarmi, mia madre cominciò a chiedermi dei soldi.Era chiaro che per lei ricevere una somma così grande come 3000 dollari era diventata una routine.Una cosa normale senza alcun sentimento particolare.Ma non riuscivo ancora a liberare completamente la mente e finii per darle i soldi senza dire nulla.Tuttavia, grazie alla consulenza.Ora ero più consapevole dei sottili cambiamenti nelle espressioni e negli atteggiamenti di mia madre che normalmente non avrei notato.Il tuo stipendio non sta aumentando un po' di più?Stai lavorando seriamente, vero?Perché in questi 5 anni riesci a dire solo cose del genere?Anche quando ti ho dato dei soldi, non mi hai ringraziato nemmeno una volta.Se lavori a tempo pieno e vivi a casa, è naturale che tu contribuisca con del denaro.Dovresti essere grata di essere stata cresciuta fino a questo punto.Capisco cosa vuoi dire, mamma.Cosa c'è che non va?Oggi sei insolitamente provocatoria.Si avvicinata a me con uno sguardo intenso.Rimasi ferma senza fuggire dal suo sguardo severo.Per la prima volta ho osservato da vicino l'espressione irritata di mia madre.Nonostante fossi sopraffatto dalla sua intensità, non potei fare a meno di notare che le sue sopracciglia erano un po' trasandate.Non so se hanno sentito la nostra conversazione.Ma mio padre e mia sorella sono usciti dalla stanza.Qual è il problema?Che cosa è successo?Sta dicendo cose strane.Si lamenta che non la ringraziamo nemmeno quando ci da dei soldi.L'hai detto davvero?Sei andata all'università perché ti abbiamo cresciuta noi.Non credi che contribuire con del denaro sia un modo per ripagarci?È il tuo dovere di figlia maggiore.Nonostante le loro parole irragionevoli.Mia madre e mia sorella annuivano e ridevano.La vecchia me forse non si rendeva conto di quanto fosse anormale questa situazione.Non sono più la stessa persona di una volta.Capisco che devo contribuire con dei soldi visto che vivo a casa, ma non è sbagliato che io mantenga tutte e tre voi che non lavorate.Noi lavoriamo, lo sai.Non siamo impiegati a tempo pieno come voi.Ma questo significa che lavorare part time non è come lavorare a tempo pieno?Quindi volete usare tutti i soldi che guadagnate per voi stessi senza ripagare i vostri genitori?Cosa ne pensi di noi?Se non vuoi contribuire con i soldi?Non puoi vivere qui.Vattene subito.Be, sarà difficile per una persona che sa solo lavorare come te vivere da sola, sorellina A.Le loro argomentazioni mi sembravano del tutto irrazionali e a poco a poco ho perso le energie per affrontare questa assurdità.Capisco che anche il lavoro part time sia un lavoro rispettabile, ma in realtà tutti e tre vanno a mala pena a lavorare.So che i miei genitori e mia sorella non vivono nel lusso eccessivo.Ma non posso negare il fatto che sono sostenuti dal mio denaro.Poiché li mantenevo tutti e tre con i miei soldi, non avevo altra scelta che stare a casa anche nei miei giorni liberi.Onestamente, c'è del vero in quello che dice mia sorella sul fatto che io possa vivere da sola o meno.In realtà.Negli ultimi cinque anni la mia vita non è stata altro che un ciclo tra casa e lavoro.Quindi è possibile che mi manchino le conoscenze generali e le competenze relative alla vita quotidiana.È possibile che non sappia nemmeno cose che sorprenderebbero chi mi sta intorno.Non so nemmeno come si pagano le bollette dell'elettricità.Mancando le conoscenze di base, finisco per sentirmi in imbarazzo in diverse situazioni.Pensando a questo, la vecchia me avrebbe deciso di non vivere da sola.Ma ora, ogni volta che sento le loro parole, sento risorgere la rabbia che era sopita dentro di me.Mi accorgo che le mie mani sono strette e sento un calore che si diffonde in tutto il corpo.La nebulosità della mia mente era già scomparsa.Perché devo mantenere la mia famiglia?Perché devo essere trattato in questo modo, finalmente mi rendo conto che questa situazione è sbagliata e inizio a prendere provvedimenti per uscirne.Grazie, me ne vado da casa.Dicendo questo, ho cercato di uscire di casa come se stessi andando al lavoro.Di che cosa stai parlando.Aspetta.Ci siamo sbagliati, perdonaci.Non essere testardo e viviamo insieme in pace.Non lasciarci indietro.Ci sentiremo soli.I tre, presi dal panico per le mie azioni.Cercarono disperatamente di convincermi a restare.Si sono aggrappate a me, piangendo, come se mi capissero, come fanno sempre.Era esattamente il tipico metodo di dv che mi aveva insegnato il consulente.Era ovvio da un punto di vista oggettivo.Mi resi dolorosamente conto di quanto fossi stata sciocca in precedenza.Addio.hai davvero intenzione di vivere per conto tuo?Per loro tre poteva essere del tutto inaspettato che io me ne andassi davvero da casa.Di conseguenza, si bloccarono.Rimanendo senza parole come se avessero perso le parole.Pensando che questo momento potrebbe essere l'ultimo in cui vedo i miei genitori e mia sorella.Desidero imprimere le loro espressioni stupite nella mia memoria.Lasciare casa per vivere per conto mio.Era così semplice punto così facendo.Avrebbero potuto pentirsi dei loro precedenti atteggiamenti nei miei confronti punto un mese dopo.Il mio sogno di vivere da sola ebbe finalmente inizio.All'inizio è naturale sentirsi a disagio.Tuttavia, questo disagio si è gradualmente attenuato e mi sono abituata a vivere da sola.Poi ho iniziato a godermi la libertà di una vita senza vincoli familiari.Tuttavia, proprio mentre mi stavo ambientando nella mia piacevole solitudine, gli ultimi giorni sono stati segnati dall'incessante squillo del mio telefono.Dopo il lavoro.Quando ho controllato il cellulare, c'erano più di cento chiamate perse.A chiamare erano solo i miei genitori e mia sorella.Ho pensato di ignorarli, ma ero un po' curioso di sapere come se la fossero cavata loro tre nel corso del mese.Così ho chiamato mia sorella.Quante volte pensi che abbia chiamato, sorellona, torna a casa?Mia sorella sembrava sull'orlo delle lacrime, implorando sinceramente aiuto.Era la reazione che mi aspettavo.I 3000 dollari che davo ai miei genitori rappresentavano l'intera spesa per il loro sostentamento.Ora non c'erano più.Anche se non erano 3000 dollari, per sopravvivere dovevano guadagnare almeno la cifra minima.Cosa a cui i miei genitori e mia sorella non erano abituati.Era improbabile che loro tre, che prima non avevano quasi mai lavorato, trovassero improvvisamente un lavoro.Rendendosi conto di non riuscire a sbarcare il lunario, sembra che abbiano preso in considerazione l'idea di farsi assumere.Tuttavia, i miei genitori avevano già superato i 60 anni e avevano un notevole vuoto occupazionale, che rendeva difficile per loro trovare un nuovo impiego.Inoltre, non c'erano quasi aziende disposte ad assumere mia sorella, che non aveva alcuna esperienza lavorativa.Avevano uno stile di vita in cui spendevano tutti i 3000 dollari mensili.Compresi i guadagni dei lavori.Part time, per cui non rimaneva quasi nulla sul loro conto in banca.I tre avevano lasciato incautamente i loro lavori part time per concentrarsi sulla ricerca di un lavoro.Senza reddito, hanno finito il cibo e non hanno avuto altra scelta che contattarmi. E' una situazione difficile, spero che troviate presto un impiego per allora.Non avevo più intenzione di aiutarli, così decisi di limitarmi ad ascoltare e di chiudere la telefonata.Per quanto ci pensi.Non riesco a trovare una spiegazione soddisfacente del perché avessi dato così tanta priorità alla mia famiglia rispetto a me stessa.Punto ripensandoci.I comportamenti dei miei genitori e delle mie sorelle erano irragionevoli, ma io avevo continuato ad avere a che fare con loro per tutto il tempo.Ero mentalmente ed emotivamente instabile, probabilmente incapace di riconoscere i miei giudizi sbagliati.Mi sono resa conto ancora una volta di come il controllo e il dominio psicologico possano avere un grave impatto sulla coscienza e sulle emozioni di una persona.Mentre i miei genitori e le mie sorelle sembrano in difficoltà, io vivo serenamente.Ora che sono libera da una vita dominata dai miei genitori, sto assaporando la gioia di costruire la mia vita con le mie mani.Ho deciso di dare priorità ai miei sentimenti.Per ora, penso che domani, nel mio giorno libero, andrò a fare shopping di cose che mi piacciono. Grazie. 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 Grazie.